Wow, rallenta! Cosa stai guardando? Faccio girare! Eh? Il cibo parla? Non credo ai miei occhi! Sono persone normali! Era solo la tua immaginazione! Aspetta! Niente più snack! D'ora in poi sull'aereo non è più consentito cibo spazzatura! Che cosa? No! No! Sembra che questa donna incinta sia in difficoltà! Vuole che il check-in venga fatto in fretta, ma la sicurezza sembra sospettosa! Gabriel ha appena notato che il cibo non è consentito all'interno dell'aereo! Sta cercando di nascondere la sua anguria, mentre la sicurezza ha deciso di verificare se la donna è davvero incinta! Oh! Sembra che lei abbia davvero un bambino nella pancia! Gabriel sta guardando la pancia della donna! Aha! Ha un'idea! Gabriel, sei tu? Non credo che la sicurezza penserà che tu sia davvero una donna incinta! Giusto? Giusto? La sicurezza vorrebbe scansionarlo, ma a casa della gaffa di prima non lo farà! Ma aspetta! Sta scivolando su una buccia di banana! No! No! La pancia! Il bambino! No! È solo un'anguria! Mi scusi! Lei! Esca! Mi faccio controllare il suo passaporto! Perché ci sono così tanti malati oggi? Eccio! Dovrò metterle una mascherina sul viso! Vada! Batterie e virus ovunque! Daniel ha visto il liquido disinfettante e ha avuto un'idea su come poter introdurre all'interno la sua sprite! Mentre la sicurezza è impegnata... Daniel ha portato via il disinfettante! Cosa intenzione di farne? Primo, abbiamo bisogno di un contenitore vuoto! Ora, versiamo un po' di sprite! E, infine, mettiamo l'etichetta del disinfettante sul contenitore con la sprite! Ta-da! Fatto! Mmm! Davvero delizioso! Mmm! Salve! Mi faccio vedere il suo passaporto! Ha qualche snack? No! Certo che no! Allora cos'è quello? Sapevo che stava nascondendo qualcosa! Guardi! È solo il disinfettante per le mani! Ah! Ok! È una buona cosa disinfettare le mani! Il liquido è talmente appiccicoso che non riesce a separare le mani! Arrivederci! Namaste! Namaste anche a lei! Prenda il passaporto e vada! Non può prenderlo con le mani! Ecco perché sta usando la bocca! Che strano uomo! Sono patatine? Non vede il cartello che dice che non è permesso portare cibo? Vedi a tutto! Mi faccio passare! Emergenza! Cos'è tutta questa fretta? Cosa c'è dentro la sua valigia? C'è stata una segnalazione di contaminazione biologica! Guarda la sua valigetta! C'è qualcosa che fuoriesce! C'è del liquido scuro che fuoriesce dalla sua valigetta! Questo liquido è pericoloso? È tutto ok! La devo scansionare! La sicurezza sta usando la macchina raggi X per scoprire cosa c'è dentro la valigetta di Sofia! Che cosa? C'è della soda dentro? Ha cercato di incarnarmi! Ops! Sembra che la sicurezza nascondesse dei dolci! Ehi! Non è giusto! Se lei può avere le caramelle possiamo averne anche noi! Mentre Sofia discute con la sicurezza gli altri si sono intrufolati dentro! Bel lavoro Sofia! Ma è mio! Lo di a me! No! Il cibo è vietato! Chloe ha notato che il cibo e le bevande vengono portate via! Ops! Pescare con la canna! Una canna! So come poter introdurre il cibo! Chloe sta raccontando il suo piano al suo ragazzo! Ecco! Prendi e vai! Un cappello da pescatore? Una canna? Cosa dovrei farci? Buongiorno! Ecco il mio passaporto! Sembra itesa Chloe! Ha del cibo? No! Devo scansionarla solo per essere ben sicura! È tutto ok! Lei è a posto! Qualcuno ti sta chiamando! Aham! Sì, sì! I documenti! Avanti! Lanciami il cibo! Chloe sta sfruttando questo momento perché la sicurezza è distratta! L'ha preso! Sì! Ho appena sentito qualcosa! Non deve essere niente! Beh, hai rischiato Chloe! Bene! Uno in più! Non riesco! Chloe! Non posso! Il gaggio è bloccato! Oh no! Che cosa? Pantaloni! Le ha strappato via i pantaloni! È molto imbarazzante! La sicurezza è scappata! Via libera, ragazzi! Sto arrivando, piccola! Prendiamo anche quelli! Ecco il suo passaporto! Buongiorno! Che cos'è? Oh, sono i miei sonniferi! Ho molta paura di volare! Ecco perché li prendo, così dormo durante il volo! Bene! Una cosa intelligente da fare! Posso provare la sua maschera per dormire? Non proprio! Oh, andiamo! Farò veloce! Stavo giusto pensando di comprarmene una! Ok! Stai nascondendo qualcosa, Anthony? Che bella maschera per gli occhi! Come mi sta? Benissimo! Ora posso riaverla? Cos'hai sulla fronte? È una... Comma? Sembra non essersene accorta ancora! Ora può andare! Sì, ce l'ho fatta! Stavo nascondendo le gomme da masticare sotto la maschera per gli occhi! Ecco da dove veniva quella gomma sulla fronte dell'hostess! E non è tutto! Sonniferi! In realtà sono Skiddles! Vedi? Che bello! Possiamo averne un po'? Wow! Nessun cibo consentito! Dove l'ho nascosto? I collanti della donna sono caduti sulla testa di Sofia! Adesso sembra una rapinatrice! Ah! Un criminale! Ti fermo io! Mani in alto! Si fermi! Eh? Oh! Un falso allarme! So come nascondere le mie caramelle! Mi metterò i collant! Poi verserò degli skiddles sul palmo della mano e li metterò sul collant! È davvero un'ottima idea! E sembra anche molto alla moda! Ta-da! Buongiorno! Posso controllare il suo passaporto? Certo che può! Hmm! C'ha un problema? Ha del cibo addosso? No! Ne è sicura? Sì! Hmm! Ok! Può andare! L'idea di Sofia ha funzionato! Na na na! Nessuno mi sta guardando! Hmm! Deliziosi! Sì! L'aereo è atterrato! Eh ciò! Aspetti un secondo! Mi scusi! Si fermi! La devo controllare! Eh ciò! Non posso farla entrare così! Ecco! Le metto una mascherina! Ora può andare! Eh? Anthony sta nascondendo qualcosa? Salve! Eh! 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 Ha preso l'influenza! Signore! Ritorni qui! Mi può dare un fazzoletto? Mi gocciola il naso? Sì! Certo! Grazie! Se ne è andato così velocemente! Deve avere fretta eh! Eh ciò! Che cos'è? Perché il fazzoletto è coperto di macchie? Che cosa? Wow! Anche il naso della sicurezza! Penso che abbia scoperto che cosa stia succedendo! Stava nascondendo delle caramelle nella confezione dei fazzoletti! Oh no! Venga qui! Non è consentito mangiare sull'aereo! Esca! Ah! L'ha cacciato via! È letteralmente volato via! Oh no! Le ragazze hanno appena visto il segnale! Non possono portare il cibo sull'aereo! Alcuni poster hanno catturato l'attenzione di Sofia! So come nascondere il cibo! Andiamo! Meloridia! No! È confiscato! La sirena di emergenza si è accesa! Cosa sta succedendo? Dobbiamo vaccinare tutti quelli dentro! Losts non può guardare quelle enormi siringhe perché ha paura degli aghi! Oh no! È svenuta! Ora le ragazze possono entrare liberamente! Sembra che tutti qui abbiano paura degli aghi! Aspetta un minuto! Stanno bevendo i vaccini? Sembra che le siringhe abbiano sprite e fanta all'interno! Posso averne un po' anch'io? Davvero rinfrescante! Non sono consentite bevande e cibo! Ora può entrare! Prossimo! Wow! Il grande poster si è staccato dal muro! Aiuto! Aiuto! Calmatevi ragazze! Sto arrivando! Non c'è niente che la mia cola non possa attaccare! Losts ha incollato il poster al muro! Adesso va tutto bene! Chloe ha preso la cola che Losts ha buttato via! E se io... E se io... Sa cosa fare! Ehi! Lei! Cosa sta facendogli? Sto parlando con lei! Sta nascondendo qualcosa? No! Niente! Ho solo una colla per un'emergenza! Oh! Ok! Chloe sembra molto tesa in questo momento! Sta nascondendo qualcosa? E dove sono finite tutte le sue caramelle? Sì! Ha tirato fuori la colla e... Ha svuotato la colla e ha nascosto le sue caramelle all'interno! Sei proprio intelligente! Buone! No cibo! Perché sono così scioccati? Oh mamma mia! Wow! È Lady Nana! Una cantante pop molto famosa! Posso fare una foto con te? Wow! E lui? Non è un famoso attore e cantante? È là! Che fantastica giornata! Ci sono due superstar! Vieni con me! L'assess non ha controllato né Lady Nana né il suo cantante preferito! Le ha semplicemente lasciati passare! È un pezzo di pizza che l'ha caduto dal vestito! Ecco! Prendine un po'! È pizza! Davvero buona! Vuoi bere qualcosa? Wow! La custodia della chitarra è piena di bibite! Entrambi hanno finto di essere famosi e hanno nascosto del cibo e delle bevande! Sembra così spaventato! Oh! Perché stava nascondendo della Fanta! Scusa! Abbiamo fretta! Stiamo facendo gli ultimi ritocchi per la sfilata di Parigi! E io? C'era prima io! Il suo taglio di capelli sembra carino! Ha del cibo? No! Ok! Allora può entrare! Andiamo! Sbrigati! Che strano taglio di capelli! Ehi! Posso entrare adesso? Sì, certo! Siediti! È tutto ok? Sì! Wow! Charlotte stava nascondendo degli Skittles nella spazzola per capelli! E non è tutto! Uno specchio? Mice per fare i popcorn dentro lo specchio? Ma come pensi di riscaldarli? Non ci credo! Charlotte ha usato una piastra per capelli per tostare i popcorn! Wow!